Buuuuia ragazzuoli bentornati su YouPlayZone, sono Shyster e oggi sono qui con un nuovissimo video per mostrarvi Razer Game Booster un altro programmino molto utile per i PC Gamer e con il quale potrete tirare fuori tutta la potenza inutilizzata del vostro computer e metterla a disposizione del vostro videogioco preferito come potrete leggere benissimo da qui, dai una spinta al tuo gioco, è proprio questa la descrizione comunque sono qui sul sito della Razer dal quale potrete scaricare il programma e qui ci sono tutte le caratteristiche di questo programma spiegate appunto su questo sito ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere un po' come si presenta proprio sul nostro computer Razer Game Booster andiamo ad aprirlo e sono qui nella modalità schermo intero dove potete vedere ci sono questi quadrettoni che rappresentano i videogiochi installati sul mio computer e altri tasti di ignota funzione che vi andrò adesso a spiegare intanto per uscire dalla modalità schermo intero basterà andare qui su impostazioni e levare la spunta full screen mode e non si può restringere purtroppo più di così ma è già abbastanza utile in alcune situazioni non avere uno schermo intero ora per la recensione per farvelo vedere meglio lo vado a rimettere così ok partiamo subito qui abbiamo tre tasti fondamentali il tasto per la ricerca dei giochi quindi magari scrivendo League of Legends verrà fuori League of Legends se in caso ne aveste molti e non vi va di stare ogni volta a cercarli a mano questo è per aggiungere nuovi giochi che il programma non trova automaticamente andando su add games potrete anche aggiungerli andando a cercarli manualmente nel vostro computer torniamo indietro e l'ultimo tasto è quello per fare la ricerca nel computer automatica dei giochi e appunto vi andrà a trovare i giochi installati queste erano le tre impostazioni principali e più visibili e vediamo poi cosa si può fare andando a cliccare su queste icone dei giochi cliccando ad esempio su League of Legends abbiamo tre opzioni ovvero far partire il gioco aggiungere i preferiti e con questa impostazione possiamo andare a modificare un po' più nello specifico il gioco e l'icona come appare cambiando il nome, cambiando magari l'applicazione da far partire e aggiungendo alcuni parametri che vi consiglio di lasciare così se non siete molto esperti da qui possiamo anche andare a selezionare un'altra immagine di anteprima dato che magari questa fa abbastanza cagare o alcune non le trova proprio e con questa icona come vi ho detto si fa partire il gioco ma non solo si fa partire il gioco si va anche ad ottimizzare appunto automaticamente il computer e come possiamo farlo altrimenti senza andare appunto a far partire un qualsiasi gioco si può fare anche da qui da Utilities andando su Boost e come vedete c'è il Manual Boost per far appunto migliorare le prestazioni del computer in game direttamente da qui manualmente altrimenti si può scegliere l'opzione Automatic Boost che lo farà partire appunto quando si fanno partire i giochi e queste sono altre combinazioni di tasti per appunto passare alla modalità Boost o tornare alla modalità normale e uscire dalla modalità Desktop quindi qui troviamo le Game Boost Options ovvero le opzioni di incrementazione come lo volete tradurre traducetelo e ci sono varie cose che possiamo andare a toccare innanzitutto su Boost Level io consiglio di lasciare Recommended da meno che non c'è un'applicazione che voi sapete usa molte risorse e quindi volete manualmente cioè volete che venga chiusa ogni volta che giocate ad un gioco qui potete vedere ad esempio le percentuali di utilizzo del vostro processore delle varie applicazioni quindi andando su Custom si possono scegliere le applicazioni da chiudere manualmente e verranno chiuse una volta che si avvia la modalità Boost io comunque lascio su Recommended perché lui automaticamente decide quali applicazioni usano troppa memoria e le va a chiudere su oltre che processi ci sono servizi in questo caso non ce ne sono e i servizi non di Windows direttamente ma di altre applicazioni magari come può essere NVIDIA come può essere Soluto che potrete scegliere sempre sempre sono cinesi sono diventato comunque sempre di andare a chiudere cliccando qui su Custom e poi andando a selezionare spuntando le cose che volete chiudere oppure lasciate su Recommended e nel momento in cui andate a mettere la spunta vi passa automaticamente su Custom io lascio sempre Recommended e fa tutto da solo su Others troviamo altre opzioni tra le quali lanciare il gioco in modalità Game Desktop che va automaticamente a fare il Boost ogni volta che si lancia il gioco è abbastanza inutile io la lascio così comunque praticamente fa appunto fa sì che il sistema utilizzi la massima potenza di calcolo per giocare senza interruzioni come potete leggere nella descrizione questa opzione va a pulire la RAM la consiglio e poi ci sono altre opzioni che comunque io lascio così di default e che sono sempre utili per ricavere potenze inutilizzate qui ad esempio Enable Game Power Solutions se avete un portatile vi mette la modalità non risparmio energetico bensì diciamo massime prestazioni e questo invece è molto utile perché vi chiude gli updates automatici di Windows e quindi appunto non partiranno aggiornamenti indesiderati mentre state giocando su Diagnose possiamo fare una diagnostica appunto del programma del computer che può essere poi inviata a Razer e su Tweaks ci sono altri parametri un po' più diciamo non complicati un po' più specifici e un po' più da smanettoni quindi vi consiglio se non siete abbastanza esperti di Windows del sistema operativo e se non sapete esattamente cosa state andando a fare vi consiglio di non toccare questi parametri e di lasciar fare direttamente a Razer Game Booster tutto il lavoro sporco comunque qui potrete un attimo smanettare voi e appunto se siete bravi andare a toccare direttamente molti parametri che possono essere utili da cambiare mentre si sta giocando su Defrag si può andare a fare il Defrag delle cartelle di gioco e quindi andare a liberare spazio inutilizzato in queste cartelle su Drivers invece potrete fare una scansione del sistema per vedere se ci sono dei driver che non avete aggiornato cosa molto molto utile e qui su FPS abilitando l'opzione FPS semplicemente avrete un indicatore in gioco che vi mostra quanti frame per seconds avete mentre state giocando con questa combinazione di tasti poi che potrete ovviamente cambiare scrivendo quello che volete ora non so più come cazzo tornare indietro e mi pare fosse alt F così ok potete andare a mostrare o chiudere in gioco questo cursore questo display piccolino che vi mostra gli FPS bene queste erano le impostazioni fondamentali e troviamo anche screencast con il quale possiamo andare a fare degli screenshot con questa combinazione di tasti o sempre cambiandole andare a scegliere dove salvare gli screenshot o andare a scegliere il formato dell'immagine PNG JPEG o BMP su video capture invece potrete catturare la vostra schermata e scegliere qui sempre lo shortcut per far partire la registrazione dove salvarlo la risoluzione e cazzi e mazzi vari vi consiglio di non utilizzarlo per registrare i giochi perché sono abbastanza sicuro che non sia buono e che utilizzi molte risorse del computer e dato che non è famoso questo programma appunto per la registrazione dei videogiochi e vi consiglio altri programmi meno diciamo succhiosi meno che utilizzano meno risorse quali Dictory o un altro molto utile che sto utilizzando in questo momento ad esempio Mirillis Action anche se è a pagamento comunque queste erano le opzioni di Razer Game Booster qui da le impostazioni potrete scegliere anche di attivare o no il suono di lanciare direttamente il programma quando connettete un joystick cosa abbastanza utile secondo me e da qui potrete chiuderlo ma attenzione questo lo abbasserà solo nella Try Icon e poi dovrete fare clic col destro e Chiudi come vi faccio vedere in questo momento Exit da qui oppure semplicemente potete fare da qui e fare quit anche se questo immagino che sia ok non sono sicuro ma non so se è per uscire dal vostro profilo o per sì sono abbastanza sicuro che è per uscire dal vostro profilo e non per chiudere l'applicazione comunque semplicemente il vostro profilo serve a salvare in cloud le vostre impostazioni e nel momento in cui dovreste cambiare computer disinstallare il programma o giocare su un altro computer in cui c'è il Razer Game Booster potrete ritrovare tutte le vostre impostazioni salvate sul vostro profilo quindi signori questa era la recezione di Razer Game Booster spero vi sia stata utile spero che troverete utile questo programma e fatemi sapere se riscontrate dei veri e propri miglioramenti ma che sono abbastanza sicuro andrete a riscontrare specialmente nelle configurazioni da gaming meno potenti e specialmente se fino ad oggi avete avuto qualche applicazione che appunto vi infastidiva mentre giocavate quindi da Shystar era tutto e ci vediamo ad un prossimo video qui su YouPlayZone Boo yeah e ci vediamo e ci vediamo